Ciao ragazzi, buongiorno, questo è l'undicesimo video cominciato su Malevenares, episodio 11, un episodio che inizia con questa piccola gag, neanche troppo simpatica secondo me, con Chukinun che dice alla squadra che non ha tattiche disponibili per le prossime partite. Come vediamo questi qua sono i fogli bianchi che indicano che Chukinun non ha più strategie per la propria squadra. Una gag così che secondo me rappresenta molto quello che è l'episodio, però è un episodio molto lento, un episodio dialogico, un episodio cui forse è un po' calata l'attenzione che c'era nei primi dieci. Interessante quello che fa vedere in questo frangente perché sembrerebbe che la squadra tra l'episodio 10 e l'episodio 11 abbiano giocato almeno 4 partite e infatti come vediamo c'è anche dietro una sconfitta perché la prima squadra è la Seishu Gakuen, una squadra di Aizaki che le ha vinte tutte, la seconda e la terza sembrerebbe essere proprio la Raymond e la Royal Academy. La Raymond ha una sconfitta e la sconfitta è stata contro la squadra di Aizaki, una partita che non abbiamo potuto vedere ma che scopriremo poi nel corso dell'episodio che a quanto pare si hanno perso 10 a 1 contro la squadra di Aizaki e ne hanno vinte altre tante. La Royal ovviamente ne ha persa una perché è la partita cui ha perso proprio contro la Raymond e quindi con 4 vittori e una sconfitta abbiamo raggiunto 12 punti così come dice una delle due manager, ancora non so come si chiama. Il problema che già non ho ben capito, una piccola incongruenza è che qui viene scritto 13 mentre qui 12 ed è giusto 12 perché 4 vittori e una sconfitta sono 12 punti e non 13. Non so, un dettaglio poco curato che sinceramente mi ha dato poco fastidio però vabbè. La faccia a faccia tra Aizaki, Nozaka e Asuto si ripete, o per meglio dire forse è la prima volta che lo vediamo nel corso di questo episodio e nel corso della serie in cui Aizaki si sbilancia molto parlando di questa bilancia di Ares in cui ormai è evidente che Nozaka è il portiero, per meglio dire la Outei Tsukinomiglia che è la loro squadra di Nozaka sembrerebbe farne pare a tutti gli effetti. Infatti Aizaki denuncia quello che è il loro modus operandi, ovvero la bilancia di Ares in poche parole, il loro modo di vincere e il loro modo di andare avanti nel calcio, un modo che a lui non piace, riferendosi dunque al fatto di Akane che ancora ci sono delle cose molto oscure sul loro conto. Un dialogo fra Asuto e Aizaki in cui Asuto chiede di giocare a calcio con il cuore in mano, ma Aizaki non ne vuol sapere, Aizaki è una persona molto molto coerente con quello che pensa, con quello che dice, non si sbilancia mai in certe cose e lui continua a dire che giocherà per vendetta sempre, il calcio non gli interessa se non per il motivo di vendicare la sua amica Kane che è stata vittima della bilancia di Ares. A questo punto arriva un colpo di scena in questo episodio che secondo me è stato molto molto forzato perché il capitano chiama Asuto dicendo che la loro squadra avversaria, ovvero non ricordo neanche come si chiama, la Aoba o qualcosa del genere, è tutta malata o comunque hanno un problema a livello intestinale a caso che tutta la squadra non può giocare. Mentre la squadra di Aizaki, l'avversaria, la Midorikawa, che non ho capito se è la stessa cui la Raymond ha battuto o un'altra, non c'è molto presente, sembrerebbe essere tutti infortunati e quindi un po' forzatamente la squadra della Raymond andrà a battersi contro la squadra di Aizaki, ovvero contro la Seshugakuen nuovamente, perché come adesso poi ci viene detto, la Seshugakuen ha già battuto 10 a 1 la Raymond. E una sorta di rivincita che però non ha senso perché dovrebbe essere stato così, secondo me la cosa, ovvero che la Raymond vinceva a tavolino e la Seshugakuen pure. Cioè non è bello come modo secondo me di agire, non rientra molto nello stile del torneo, dello stile reale del torneo, non lo so, un po' molto forzata, volevano fare la rivincita e che rivincita sia. Un avvenimento pseudo interessante è quello il dialogo tra Asuto e Yune-san, che sarebbe la nonnina, la vecchietta che ha accolto fino a subito la Raymond nel proprio alloggio, nella propria casa. Una lettera in cui la mamma di Asuto, che prima di morire lasciò ad Asuto stesso, in modo che Yune potesse darla ad Asuto nei momenti di difficoltà, in modo da alzargli un po' il morale e fargli capire che la vita è bella, che non bisogna mai scoraggiarsi e così via. L'unica cosa interessante di questa lettera, vabbè a parte che può essersi commovente la lettera, perché comunque Asuto legge un qualcosa della propria mamma, che non c'è più, è il fatto che il papà è ancora vivo e quindi qua si apre un ulteriore capitolo di questa storia gigante di Asuma Eleven Ares, in cui a quanto pare il papà era un giocatore di calcio, un giocatore abbastanza rinomato e che ha partecipato anche alla nazionale, presumo giapponese, anche se non viene ancora detto, e quindi a quanto pare il papà è vivo e andrà alla ricerca dunque di questo suo papà. E anche la mamma che dice che guardando la grinta, la determinazione, la voglia di vincere di Asuto, non può fare a meno che ricordarsi di suo padre. Sinceramente io, ipotesi zero, non ne ho idea, viene fatto vedere in un piccolo frame, forse, in cui solo da dietro siamo una persona qualunque. Non ne ho idea se può centrare qualcosa, forse, secondo me, potremmo vederlo ai vertici della bilancia di Ares, non so perché ho questa idea, che non sia quell'uomo lilosco, non penso proprio, ma che sia qualcuno che pian piano scopriremo e che sia lì comunque ad aiutare, ho come questa impressione. E qua capiamo un po' che Yunesanne dunque è una vecchietta che in realtà tornerà utile nella vita di Asuto, perché a quanto pare già conosceva Asuto e la mamma, e non penso che possa essere la nonna, altrimenti l'avrebbe detto, ma sicuramente è una persona molto legata a loro e che potrebbe essere utile per ritrovare e ricercare il papà di Asuto. A questo punto, per preparare la partita contro la Seshugakuen, c'è una strategia di un allenamento individuale per Mansako-kun, quel giocatore della Remo con il cappello che per il momento mi pare sia difensore e non abbia fatto chiesto grandi cose. Un allenamento che però non ci viene molto spiegato e che durante l'episodio rimane ancora molto in sospeso, probabilmente entrerà nel vivo nel prossimo. Piccoli minuti di allenamento, come vi ho fatto vedere, è Izaki che si sfoga e utilizza tutta la sua rabbia, perché a quanto pare Izaki dà molto fastidio a Asuto, gli sta proprio sulle palle, tutto in terra a terra, e quindi cercherà di sfogarsi il più possibile, tanto che proprio Asuto gli dà proprio fastidio, e tirerà fortissimo in questo allenamento piccolo che farà. Però una piccola frase che mi è piaciuta, una parentesi che ha voluto aprire Jude, è questo, ovvero che conosce un'altra persona che assomiglia particolarmente, e qui il riferimento a Mark Evans è palese, è fondamentale. Chissà, molti dicono già, fra di voi fan, che sanno già dove è Mark, preferirei non saperlo, però poi lo troveremo. A quanto pare non sarà nella squadra di Nosaka, quindi sarà in una squadra che, boh, non ho proprio idea, sinceramente, non avendo spoglierato nulla. Però mi è piaciuta questa parentesi, perché alla fine Jude riscopre Asuto nella figura di Mark, ed è un bel paragone. La partita inizia, ovviamente, con le forciatine che Aizaki continua a tirare alla squadra di Asuto, e subito primo gol. Un primo gol assurdo dal centrocampo, un tiro normalissimo, ma che veramente ha spostato l'aria da quanto veloce, e su una tecnica speciale, gol, 1-0. Dopo pochi secondi di gioco, il tiro di Aizaki, fortissimo, va in gol subito. La squadra però non si arrende, perché vedremo che la determinazione di Asuto riuscirà a dare grinta alla squadra e riprendere la partita come se non la fosse, ovviamente con un gol subito. E l'episodio finisce qui. Un episodio che a me non mi ha dato troppo, ma tre caratteristiche. Poco sensato e quindi forzato in certe cose. Dialogico, troppi dialoghi. E un po' calante, perché non capisco il motivo di dover fare tutto questo balzo in avanti, senza tenere in considerazione le partite fatte in quel lastro di tempo. Non lo so, non mi è chiaro questa cosa. Spererei che venga capito il perché. Infatti un commento che voglio subito leggere, che lo ho come terzo, di Nicolock, lui già ipotizzava che nella prossima puntata si è andato subito in campo e che l'anima potrebbe durare 25 episodi massimo. Io a questo punto penso che possa durare ancora meno, perché le questioni sono due. O l'anima è talmente vasto e talmente ampio che devono coprire 126 episodi e quindi Futuro Frontier duri circa, non lo so, 10 episodi, quindi 15, penso che tra una cosa e l'altra la finisca. Oppure non capisco. Mi auguro che la Nassume Leven Ares possa non essere calante come questo episodio, ovvero portato avanti giusto per fare numero di episodi. E se, come dice Fitzhector, l'episodio precedente era spaziale, questo un po' meno, assolutamente. Non mi è piaciuto. Non ha quella grinta e quella vistosità che poteva avere l'episodio scorso, ma è un po' calato, a mio parere. E' gran peccato, gran peccato. Leonardo 4K invece tira su una questione, sull'ortopolare numero 2, proprio sulla mossa in sé. E anche io questo non capisco il perché viene chiamato numero 2. Sì, dall'ipotesi che un giorno uscirà un numero 1, ma a questo punto chiamatelo l'ortopolare punto e basta. Infatti è di panica che risponde in questo modo. Però non capisco, sinceramente, tante cose forzate e delle prime incongruenze stanno ormai arrivando anche in questo mondo, di Nassume Leven Ares. Una piccola teoria di Alessandro Cimè che vorrei sfatare, ovvero che se siamo in un mondo parallelo, Arion, per quanto mi riguarda, potrebbe anche non essere mai nato, o potrebbe essere stato adottato, potrebbe essere, in qualche modo, non lo so, passato, cioè non vuole più il calcio, non lo so. In un mondo parallelo significa che qualsiasi situazione potrebbe essere soggetta a modifiche. Ciò significa che non ha senso tirare conclusioni che se Axel non è mai nato a Kinawa, allora Arion è sicuramente morto sotto le travi. Perché Arion magari potrebbe essersi spostato, o potrebbe essersi mai andato a Kinawa e via. In un mondo parallelo significa questo, che le situazioni possono cambiare radicalmente. Comunque, vi ripeto, per me l'episodio è stato un po' forzato, un episodio che non mi ha dato molto, a cui do voto 7, 7 e mezzo massimo. L'ha un po' tirato su la sufficienza di questa notizia, che a questo punto alimenta un po' di hype, un po' di suspense, nel capire dov'è quindi collocato il papà di Asuto. E io vi ripeto, penso, secondo me, che c'entri qualcosa con la bilaggia di Ares. Non ne ho proprio idea di che possa essere, ma sono sicuro che è un personaggio che ancora mai abbiamo visto, e che ci sarà tempo per vederlo. L'episodio finisce qua, il video commento anche. Voi cosa ne pensate? A me non è piaciuto molto, non mi ha dato tutta questa grinta, determinazione che mi dava fino al decimo episodio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!